Gli obiettivi nell'ambito della pubblica amministrazione, ma questo non è l'unico strumento per formare meglio la pubblica amministrazione, probabilmente ce ne sono tanti. Io mi rilevo dalla parte dell'impresa e voglio stare dalla parte dell'impresa. No, perché uno dei problemi per l'impresa è la pubblica amministrazione. Assolutamente. Non lo diciamo è uno degli ostacoli. Qual è la grande differenza? Per certi versi, provo ad esprimere con un concetto. Non voglio parlare di onestà e di disonestà, ho grandi difficoltà a parlare, a sezionare così il mondo. Probabilmente sono anch'io un po' onesto e un po' disonesto, in tante piccole parti. Però la cosa che differenzia l'impresa e l'imprenditore in tanti contesti è la responsabilità. L'imprenditore ha la responsabilità, in ogni caso, e di questa si carica in tutte le sue parti. Delle volte lo fa bene, delle volte lo fa male, però ha una responsabilità che è ben definita. Deve far star bene la propria impresa e in qualche maniera deve poter dare anche sfogo alle risorse che confluiscono nella propria impresa. Questa responsabilità fa una grande differenza. E se siamo così bravi a rendere, e qui tocco forse la parte politica e non lo dovrei fare, se siamo così bravi a rendere responsabili le famiglie e le imprese, perché non siamo così bravi a rendere responsabili i politici? Ma siamo bravissimi nel caso delle imprese e nel caso delle famiglie. Anzi, costruiamo un sistema esattamente molto elaborato per poterlo fare nel dettaglio. fatto salvo che alcuni, soprattutto quelli che evadono, mi riaggancio al tema che Alessandro ha appena proposto, soprattutto quelli, gli evasori totali, quelli che non esistono di fatto in quel contesto, di fatto non sono conosciuti. Per noi il problema è che non sono conosciuti, ma i politici sì, lo sono. E perché non stiamo a innescare questo sistema di responsabilità? Perché? Innanzitutto bisogna distinguere i ruoli della politica. Mi pare di capire che nei ruoli dove la gente sceglie direttamente e può controllare i politici, mi riferisco soprattutto ai sindaci e alle amministrazioni locali, è molto più semplice amministrare bene o comunque la gente si rende conto di come vengono spesi i propri quattrini. Sì, io qua però l'interrompo perché ho assistito proprio un'intervista recentissima a un esponente del sindaco di Mira, insomma, 5 Stelle, vabbè, però un giovane, giovanissimo, venuto dal niente, che si è cimentato. E quello che mi ha colpito, a prescindere che possa sembrare un tremerito, però mi ha colpito, abbiamo fatto un sacco di tagli e abbiamo scoperto che c'erano spese in eccesso di qua, di là, di su, di giù. Allora, lui è sindaco e sta facendo un lavoro di repulisti e di recupero. Bisogna vedere poi se non è tutto vero quello che dice questo. No, no, ma per carità qualcosa ci deve essere, cioè anche i politici più vicini e scelte del popolo commettono degli elusionali comuni, sarebbero tutti quanti virtuosi, noi ci troviamo invece tanti comuni, non facciamo menzioni, per carità, non voglio toccare, andiamo in altre parti d'Italia, che sono un disastro. Un punto di responsabilità, allora, poiché ho fatto l'amministrazione, l'amministratore locale, io di professione faccio il medico, tanto per essere chiaro. Poi, un pezzo della mia vita, l'ho dedicata, adesso è un ruolo importante in politica, però ho fatto anche dieci anni di consigliere comunale, ho fatto in un comune importante come Padova, ho fatto un anno e mezzo l'assessore a Padova e comunque la macchina amministrativa, bene o male la conosco. Dipende appunto dalla responsabilità delle persone. E non solo, è nell'amministrazione locale, comunque ti devi confrontare con i cittadini ed essere controllato che è l'unico strumento che ti consente poi di fare bene o cercare di fare il meglio, è la cosa migliore che ci possa essere, i cittadini ti possono e ti controllano quando tu intervieni nella carne dei loro problemi. Il problema nazionale è un po' diverso, innanzitutto abbiamo una pletola di parlamentari e spesso di, innanzitutto che ormai da anni non scelgono i cittadini, cosa di una gravità enorme. Sì, ma la prima riforma che deve essere fatta non è stata fatta, è che non rispondono a lei, quindi cittadini che scelgono i loro eletti e un numero di eletti deve essere la metà di quello che c'è adesso. Abbiamo mille parlamentari che non si capisce cosa fanno là. spesso con gruppi e gruppuscoli di potere, ognuno che rappresenta delle cose spesso immonde, l'ultimo esempio con l'ultima finanziaria approvata in Parlamento dove questo virtuoso governo Monti e questa virtuosa maggioranza che lo so che l'ha sostenuto PD, PDL, UDC e Fli fra le tante cose hanno messo dentro l'apertura di altre mille sale di videopoker. Da un lato abbiamo il ministro Balduzzi, collega, che dice che c'è una nuova malattia si chiama la ludopatia, quindi quelli malati e poi aprono mille sale di videopoker per arrovinare chissà quanti miliardi di famiglie, lo Stato italiano. Ora ditemi voi se questa gente che ha votato queste cose possiamo dire che sono persone hate. Grazie. Grazie. Grazie.